Ispirarsi al passato per costruire il futuro. È il filo rosso della visione? CAFOSCARI 2026. Nel nostro piano strategico siamo partiti da due domande. Come può la nostra università contribuire a un futuro migliore, con proposte soluzioni concrete ed efficaci? E cosa dobbiamo fare per far sì che questa visione si trasformi in realtà? Attorno a questi interrogativi abbiamo elaborato un piano strategico pensato per essere realizzato insieme al territorio, alle istituzioni, alle imprese, a tutti coloro che credono nella formazione e nell'istruzione come strumenti essenziali per lo sviluppo della società. Faremo di Venezia un grande laboratorio vivente, una fuccina di idee e di buone pratiche per affrontare le sfide globali. CAFOSCARI si impegna a divenire un punto di riferimento per i temi legati alla transizione ecologica, alla sostenibilità e al dialogo interculturale, un motore per la nostra città e un modello per lo sviluppo di competenze formative in grado di incidere nel presente e nel futuro. Ci impegneremo per fare di Venezia una città universitaria e aumentare il senso di appartenenza dei CAFOSCARI alla nostra città. Assieme ai nostri giovani continueremo la nostra vocazione, divenendo baricentro della cultura e dell'economia, favorendo la contaminazione culturale per creare ambasciatori di una creatività che non ha uguali nel mondo. Infine, innovazione digitale, inclusione, giustizia sociale, parità di genere saranno al centro delle nostre politiche e azioni concrete sul piano didattico, scientifico e culturale. Il piano strategico 21-26 di CAFOSCARI è il frutto di un processo partecipato che ha coinvolto oltre 100 persone tra il personale di Ateneo e ha visto importanti momenti di confronto con i nostri stakeholder esterni. Abbiamo realizzato un piano che parte da sette obiettivi flagship che traducono la visione CAFOSCARI, ponte per il futuro. Ricerca, didattica, terza missione, servizi agli studenti, infrastrutture, organizzazione agile. Sono queste le aree di intervento e per ciascuna di esse sono stati definiti gli obiettivi strategici. È un progetto ambizioso per il quale abbiamo previsto un piano di investimenti considerevole. CAFOSCARI 2026 è un piano aperto, costruito ascoltando i contributi e le proposte della nostra comunità e dei nostri interlocutori esterni. È il piano di CAFOSCARI, ma non è solo per CAFOSCARI. E per tutti coloro che assieme a noi vogliono cogliere questa sfida e trasformarla in realtà.